Come da pronostici, il nuovo presidente della Fondazione Tercas è Enrica Salvatore. Il voto del Consiglio è stato unanime. Si chiude dunque l'era Nuzzo e la Fondazione, malgrado il crack del gruppo Tercas, che è costato oltre 70 milioni di euro, può ancora contare su 100 milioni di patrimonializzazione e non solo, così come annunciato dalla neopresidente. Il patrimonio della Fondazione torna a crescere. C'è stata una politica per la tutela del patrimonio, sicuramente, dopo le situazioni Tercas che ben conosciamo, ma questo non ha consentito però di rivedere una serie di situazioni e quindi di tutelare il patrimonio, di procedere alla tutela del patrimonio. Che vuol dire questo? In realtà sono stati scelti tutti quegli strumenti che consentivano di avere una redditività tale da poter sostenere le spese di funzionamento dell'ente e di ottenere una congrua somma per le erogazioni. Va ribadito una cosa molto importante, torna a che c'è in che senso? Che quest'anno, già nel 2014, la Fondazione ha effettuato accantonamenti, il che vuol dire che, poiché, come dicevo prima, è importante che la Fondazione sia nel tempo, gli accantonamenti consentiranno l'aumento del capitale e quindi del patrimonio da gestire. La mission della Fondazione, nonostante il rinnovamento degli organi, permarrà e anzi verrà accentuata quella della vicinanza al territorio, quindi conoscenza di quelle che sono le esigenze del territorio e collaborazione con gli enti. Un obiettivo questo sicuramente ambizioso ma necessario in un momento storico come questo, in cui la città evidenzia delle reali necessità. C'è un nuovo corso di tutte le fondazioni, le 88 fondazioni bancarie italiane, in realtà si stanno rinnovando grazie all'introduzione e allo studio e poi all'applicazione di due documenti molto importanti, da una parte la carta delle fondazioni e dall'altra il protocollo che è stato firmato a marzo 2015 con il MEF. Il rinnovamento chiaramente comporta, oltre al rinnovamento delle governance che si è avuto un po' in tutta Italia, comporta anche una tutela del patrimonio molto importante e poi una particolare cura di quelle che sono le attività istituzionali. Grazie a tutti.